Permettetemi di dare una lettura al messaggio di augurio dal senatore della Repubblica di Ciuvacea, il signor Fyodorov, che era anche Ministro dell'Agricoltura. Il futuro di milioni di persone dipende in gran parte dalle prospettive del settore agricolo. Ecco perché l'Eleoforum internazionale del settore agricolo è così importante per lo sviluppo del complesso agroindustriale. Auguro ai partecipanti al ProAgrotoc di raggiungere nuove vette, una comunicazione piacevole e utile. Grazie mille!